Qual è il valore e il ruolo di queste manifestazioni come queste? Tanto è importante che il proprio Partito Democratico faccia il punto della situazione sulla questione agricola, agroalimentare italiana, lo faccia a Bologna, una città fondamentale per la nostra esperienza agricola, lo faccia dopo Expo con tutta l'esperienza, la forza e il carico di energia che questa grande manifestazione ci ha consegnato ed è molto importante questa giornata di lavoro con gli stakeholder, quindi con i portatori di interesse, con le associazioni, con il mondo agricolo e agroalimentare, anche perché siamo in un passaggio di fase molto delicato dove ci sono cose buone, risultati, un'attenzione nuova che è tornata sull'esperienza agricola italiana molto molto rilevante, non scontata, però ci sono anche tanti problemi, tante questioni ancora aperte che dobbiamo sapere affrontare, quindi mi sembra proprio il modo giusto anche per fare un punto della situazione e soprattutto lanciare nuovi obiettivi del lavoro che dobbiamo fare per i prossimi mesi.